Chi ama il silenzio, la lentezza e la solitudine, apprezza l'alta badia. Soprattutto apprezza la natura, è lei la padrona assoluta, che ti guida lungo sentieri deserti, dove i colori non hanno bisogno di filtri, l'aria è tersa e la vista spazia fino al fondo delle vallate. In questo quadro, con rispetto e armonia, possono entrare tutti. Qui i pensieri diventano idee senza nemmeno accorgersi di farlo. Succede camminando lungo i sentieri, respirando il paesaggio, diventandone parte. Vengo in alta badia ogni volta che posso, per rigenerarmi camminando su creste solitarie, ammirando i tramonti maestosi di questa antica terra ladina.